La riapertura in tempi brevi del sottopasso ferroviario di via Torino ed attuazione del progetto per il sottopasso pedonale di collegamento tra via Roma, via Milano e casa Parrilli e la richiesta che i consiglieri comunali di minoranza hanno inoltrato al sindaco di Ponte Gagnano Faiano e all'assessore ai lavori pubblici. L'intervento, precisano dall'opposizione, è praticamente ultimato e sostissono le condizioni tecniche per la consegna dell'opera e il ripristino della circolazione nella zona. A ciò si aggiunge la necessità di dare attuazione al protocollo d'intesa già sottoscritto nelle scorse settimane con rete ferroviaria italiana per la realizzazione del sottopasso pedonale a beneficio di attività e residenti.